Perché è impossibile equiparare il fatto di andare in agenzia immobiliare a chiedere maggiori informazioni per una casa e andare in un concessionario auto a chiedere maggiori informazioni per una macchina? Due esperienze diametralmente opposte. La prima differenza sostanziale è che in autosalone hai la totale certezza che ad attenderti ci sarà un addetto alle vendite che si è preparato, che ha studiato, per essere lì ad offrire tutte le caratteristiche e tutte le specifiche su ogni auto esposta in vendita. condizione che purtroppo spesso non accade in agenzia immobiliare perché le case sono tutte diverse ogni casa ha le proprie caratteristiche caratteristiche che la rendono differente a tutte le altre ogni casa ha la propria storia una storia che è raccontata e descritta all'interno della documentazione che l'accompagna alla vendita e se volessimo proprio equiparare le due esperienze dovremmo essere portati a pensare che ad attenderci in agenzia immobiliare ci sia qualcuno che abbia avuto l'accortezza di reperire, analizzare e studiare tutte le informazioni su ogni casa che espone in vetrina e questo purtroppo spesso non accade a volte ti senti rispondere che potrai avere accesso alle informazioni, alla storia di una casa soltanto dopo aver preso la decisione di acquistarla o peggio ancora, capita che in alcuni casi il venditore di turno rimandi ad un secondo momento sia la raccolta che l'analisi della documentazione e quindi la storia di una casa in questi casi devi essere tu ad essere preparato per chiedere, ottenere ed analizzare maggiori informazioni su una casa perché è una questione di metodo, ci vediamo dall'altra parte